Il Tarantismo è un momento antico che probabilmente inizia nel medioevo. Inizia in Salento e inizia in tutta l'Italia. Il Tarantismo era un rito possensuale in cui un spazio nebbia una persona che inizia a danciare. Il Tarantismo resta in un ruolo vicino a un gruppo di musicanti che spavano molte cani tradizionali. Il Tarantismo deve esprimere la musica e quando ha deciso, va fuori dal ruolo e inizia la danza. Il Tarantismo ha due momenti. La prima parte consista in ruolo sul ruolo. La seconda parte consista in danza sui piedi, come si vuole bruciare il spazio. Segui il Tarantismo si chiede a San Pol se deve continuare o si può restare. Non solo St. Paul può dire quando la danza può finire, quindi la danza continua per molti giorni. Tra i anni, il talentismo è stato il centro di molti studi antropologici del mondo occidentale. Questi studi hanno dimostrato che la gente non era veramente nipida. E possiamo dirlo per due ragioni. Prima, l'espida che era responsabile per la posizione era il più pericoloso di tutte le espida. Secondo, le famiglie e i miei lavoravano insieme nei cittadini, ma solo le famiglie erano nipida da l'espida. I ricercatori vengono il talentismo non come una posizione di diritto, ma come una sorta di ribellione della popolazione famiglia contro la dominazione del male. Oggi, il talentismo ha perduto l'elemento giusto e è diventato una danza popolare. Infatti, nel suito dell'Italia, possiamo trovare molti eventi che hanno il talentismo come protagonista. A presto. 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 Grazie a tutti